Orrore in Francia, dove il cadavere fatto a pezzi di un cittadino napoletano, Vittorio Barruffo, 44 anni, è stato scoperto da un cacciatore, secondo quanto scrive il quotidiano Dauphine Libere. L'uomo era scomparso a luglio dalla cittadina francese di Montelieu-Versieux. Alla sua identificazione si è arrivati attraverso l'esame del DNA. Il cadavere con braccia e gambe amputate è stato trovato la scorsa domenica nella regione di Alvernia, Rodano Alpi. Alla sua identificazione si è arrivato attraverso esami specifici. L'uomo era scomparso da Montelieu-Versieux, dove viveva. Il cadavere era avvolto in un telo di celofan lasciato in un'area boschiva, a 30 chilometri circa da Bourgogne-Jacques. L'autopsia avrebbe rivelato lesioni craniche causate da uno strumento contundente che potrebbe essere la causa della morte per gravi danni neurologici ed un'emorragia. Questo, secondo il procuratore di Grenoble. Verranno effettuate ulteriori analisi per scoprire di più sulle circostanze e le cause della morte. Gli inquirenti sono al lavoro e tra le piste che si seguono, secondo il quotidiano, c'è quella che porta ad un omicidio legato alla criminalità organizzata. Vittorio viveva con la compagna in Francia. La donna Giugno aveva deciso di tornare in Italia dalla sua famiglia. Vittorio doveva arrivare poco dopo. Dovevano ritrovarsi con la sua compagna appunto sul suolo italiano. Ma l'uomo non ha dato più notizie di sé e non ha più risposto al cellulare. La data della scomparsa indicata sulla sua scheda sul sito della trasmissione Chi l'ha visto era il 9 luglio scorso, due mesi e dieci giorni dopo il tragico epilogo. Grazie a tutti.